Aink, 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 aink! Ah, ho capito, vuoi che ti prenda in braccio? Aink, 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 vieni qui! Oh, sei un grosso maialino rosa! Vuoi che ti aiuti, Boots? Posso farcela, posso farcela! Boots, il maialino è troppo pesante per portarlo in braccio al fienile. Sì, abbiamo bisogno di qualcosa per riuscire a portarlo fin laggiù. Tu vedi qualcosa che possa aiutarci a portare il maialino fin laggiù? Cosa possiamo usare? Il carretto! Il carretto! Buona idea! Possiamo mettere il maialino dentro il carretto. Dai, Boots, portiamo questo carretto fino al fienile. Bene! Ehi! Oh no, il carretto è andato via! Da che parte è andato? Eh? Da quella parte? Oh no! Aink, 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 aink! Il carretto sta andando giù verso quel cancello! C'è Tico, lo scogliattolo! Dobbiamo dire a Tico di aprire il cancello, così il carretto non ci sbatte contro! Oh no! Tico, il primo bocellino sono morti! Ci mancherete voi due! Mi mancherai, Boots! Sono d'accordo con Dedo! Mi mancherai così tanto è spiegato il bocellino che quando abbiamo provato la portata e il manino sul canale a lo penino, riscaldò il potere di essere avvicinato con lo Tico. E tu sei morto! Ciao ciao Tico, il primo bocellino! Eeeh! 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 Grazie a tutti